Buongiorno, sono le 9.08, abbiamo appena avviato la registrazione della seduta, facciamo l'appello. Chi ha bisogno dell'attestazione me lo comunica. De Vivo? Presente. Alle Ori? Presente alle 9, con giustifica, grazie. Va bene. Angelini? Presente. Bella Sai? Sì, è presente. Borrelli? Borrelli? Cerisola? Borrelli presente, Cerisola? Buongiorno, presente, con attestazione. Grazie. Va bene, Baccari? Buongiorno, presente, con giustifica, grazie Caterina. Va bene, richiamiamo il consigliere Bellassai. Per il momento non è presente in videoconferenza. Va bene. Perfetto, abbiamo due verbali, abbiamo il verbale del numero 25 e il numero 26. Io passerei con il verbale del numero 25. sono del 20 e del 25 giugno, non è il numero 25, sono due verbali, uno del 20 giugno e uno del 25 giugno. Ah, i numeri sono... Ah, i numeri sono, allora... Sono le date. Sono le date, sì, esatto. Prima c'è quello del 20 e poi quello del 20. Il verbale numero 25, il verbale numero 26. Per questo mi sono confusa, nel titolo proprio, va bene. Allora, il verbale, parliamo del verbale del 20 giugno numero 25. Va bene. Perfetto. Io l'ho letto velocemente. No, mi sto un po' un po' appocchiando con le date, scusatemi. Vi lascio 5 minuti per leggerlo e poi magari facciamo le modifiche. Spendo la seduta? Sì, per 5 minuti, 9 e 15, grazie Caterina. Va benissimo. Sono le 9 e 16, abbiamo appena ripreso la registrazione della seduta. Perfetto, c'è già la mano alzata del consigliere Cirisola. Prego Marco. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto ringrazio la Presidente che lei, come sempre, molto gentilmente ha condiviso sulla chat messaggistica veloce i testi dei verbali, quindi ha dato modo alle commissari di poterli consultare in modo più agevole. Quindi grazie. riguarda i verbali, non ho trovato cose in cui credo gentilmente alla correzione o all'interazione, solo che però c'è un problema. Allora, grazie che sono stati messi in esame e in votazione contemporaneamente, quindi questo che ovviamente aiuta perché fanno parte di un discorso unico. Ecco, però è quello che volevo far notare, ma ovviamente non si può scrivere sul verbale del 20, avrebbe scritto sul verbale di oggi, perché lo sto dicendo oggi. quando la gentile verbalizzante riporta il punto dell'esame dei verbali, gentilmente se potesse scrivere questa mia dichiarazione. Ecco, è appunto graziato per i verbali e insomma noto, non è la prima volta, noto che c'è una strida insomma al confronto tra quanto nel verbale del 20, del giorno 20, quanto spazio viene dato, insomma, esteso, estesa, viene riportato per esteso, quanto dice la giunta, il sicce eccetera, mentre per quanto riguarda il dibattito dei consiglieri, che è una estrema sintesi sul dibattito, mentre insomma anche il dibattito, anche il contributo dei consiglieri è importante, fa parte della strida, quindi se vogliamo essere sintetici, ma essere sintetici anche sulla parte della giunta, altrimenti il confronto stride ed è sorviante, insomma, quindi ecco chiedo che nella verbale di oggi sia riportata questa mia contestazione. Grazie Presidente, grazie alla verbalizzante. Grazie Consigliere Cerisola, devo dire che anch'io ho notato la stessa cosa, infatti… Non è mio il verbale però, io mi tengo… Sì, ma io non contesto… No, no, però non posso neanche replicare, capito? Non posso neanche replicare. No, 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 non è necessario, nel senso che effettivamente è così, cioè l'impostazione data agli ospiti è molto… a me fa piacere… Sono molti più sintetici perché siamo sempre di meno, quindi rimane sempre più complicato. Io devo dire una cosa, che mi fa molto piacere rileggere le cose degli ospiti perché le riprendo, le ricomprendo, magari mi segno anche delle cose che sono state dette e che mi erano sfuggite e quindi a me fa piacere che gli ospiti siano così ben documentati. Sì, però effettivamente anche nel verbale, cioè nel verbale, specialmente il secondo, io dico solo una piccola cosa di una riga, insomma un po' non è così, no? Sì, sì, ecco lo riferirò alla mia collega perché ripeto, io lo sto scrivendo il verbale di oggi, però non avendolo redatto io non so neanche come giustificare. Allora, perfetto, io ho una piccolissima correzione sul verbale del 20 giugno. Sì, lo prendo subito, un secondo solo, eccomi. Sì, penso che quando, adesso non so se è la prima o la seconda volta, la Presidente, allora, non è la prima pagina, non è la seconda, la terza pagina, ci sono due… Un massimo, un massimo, che cerco di prendere il punto, sì? No, è semplicemente scritto, vorrevo semplicemente scrivere meglio in italiano, se la Presidente dei Vigo svolge considerazioni anche sul grande tema del taglio dei fondi, eccetera, eccetera. A un certo punto dico che il nuovo atto aziendale dell'Asla possa vedere coinvolto anche il municipio, in quanto ritiene che il documento… Un attimo, mi sono persa, un attimo, eccolo, sì, sì. In quanto ritiene che il documento non possa non coinvolgere… C'è scritto il Sindaco, io qua aggiungerei che è competente per mandato… nelle politiche di tutela della salute dei cittadini. Cancellando tutto il resto, va benissimo, ecco, un attimo solo. Ok, esatto, eccoci. Quindi se non c'è nessuna altra correzione, non vedo mani alzate, direi che se l'avete letto tutti, il verbale del 20 giugno possiamo approvarlo. Sì, un attimo, scrivo. Quindi approvato il 10 ottobre 2024, va bene. Quello del giorno dopo, non so se facciamo in tempo, perché le persone che si sono collegate io le ho mandate via per farle ricollegare. Mai lo vediamo alla fine? Io direi, cioè non so, io l'ho letto e ovviamente ho la stessa critica del consigliere Cerisola, però… Anche quello non l'ho redatto io, quindi ripeto che posso riferirlo, ecco. L'ho già scritto al verbale, l'ho scritto e io riferirò. Il verbale del 25, di cinque giorni dopo, per me va bene, insomma. Ah, forse potrei correggere una frase. Io lo prendo subito. Eccolo. Allora, alla pagina 2, la Presidente dei Vivo replica gli interventi precedenti. Sì. Qua dice, precisando che i fondi per i… Io non sui fondi, che i fondi per il 24 sono. E poi aggiungerei anche perché alcuni progetti sono partiti e stati approvati nel bilancio dello scorso anno. Giusto per precisare perché… Sì, sono partiti e sono stati approvati nel bilancio dello scorso anno. Va bene. Qua sarei tentata a scrivere tante cose che ho detto, però va bene così. Per me vanno bene entrambi a questo punto. Vediamo un attimo se ci sono delle richieste, delle mani alzate da parte dei consiglieri. No. Perfetto. Se per voi, per tutti quanti va bene, il silenzio ha senso. L'avete letto su tutti quanti? Allora, perfetto, possiamo darlo per a me. Benvenuta a Luisa Laurelli, io dico a Luisa, benvenuta a Assessora. Buongiorno a tutti. Stavo cercando la convocazione sul computer perché sono riuscita ad arrivare a casa, quindi ci potrei lavorare, ma io non la trovo. La convocazione? Quando è stata mandata, chi l'ha mandata, non riesco a capire. Adesso lo vedo subito l'accessore, un attimo. Il problema è che stanno mandando quattro mail per ogni convocazione e quindi non è chiaro. Si perde, però se io digito convocazione con missione 1 del giorno tal dettaglio dovrebbe uscirmi fuori la mail. Io non la trovo. Le dico subito. Secondo. Vedo un attimo quando hanno fatto. Secondo solo. Il telefonino ovviamente è uguale, però insomma vedersi una volta a schermo intero forse è meglio. Un attimo. Comunque buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eccoci. Sto vedendo quando hanno mandato. Sto vedendo quando hanno mandato. Martedì. Assessore se guarda nella Whatsapp io gli ho inviato la copia che sono riuscita a trovare nonostante tutte le mail. L'8 ottobre l'hanno mandata. L'ha mandata la collega Mattioli. Mattioli Maria. Ok, ora digito Mattioli e vediamo se esce fuori. Grazie. Prego. Perfetto. Allora attendiamo. Ecco qua. Stanno arrivando. Elena Megli, Marinella e Rosario. Benvenuti. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi vedo che siamo tutti quanti collegati. c'è la dottoressa Elena Megli. Buongiorno. Buongiorno. C'è la dottoressa Marinella D'Innocenzo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie per 4€. Io non la vedo. Non la vedo neanche io. Sì, era in stare ad attesa. Poi si vede che, visto che non la faceva entrare, ha pensato magari di ricorregarsi più tardi. Perfetto, allora a questo punto io vedo che c'è la mano alzata di Marco Cerisola L'ammetto Presidente Grazie, grazie Marco Cerisola, la mano alzata No, era solo per dire Scusa Presidente, era solo per collaborare con lei Ah, grazie La vacaria ha fatto più veloce di me, insomma, io l'ho vista in sala d'attesa la Presidente della Consulta E volevo appunto segnalare il fatto che erano tre in sala d'attesa, due sono entrati e la terza Ecco, ci sono tutti Ma poi adesso siamo tutti, quindi ringrazio la Presidente e soprattutto la Vicaria che è stata più veloce di me l'ha fatta entrare Tutto qua, era solo per collaborare Grazie Marco, siamo più veloci della luce Va bene, dopo tutti questi complimenti iniziamo la riunione di oggi Oggi abbiamo il piacere di ospitare nella nostra riunione la delegata del Sindaco per i rapporti con l'Aso Roma 2 La dottoressa Marinella di Innocenza, diamo il benvenuto E saranno con noi la direttrice del distretto 9 dell'Aso Roma 2 Elena Megli Ovviamente la nostra Presidente della Consulta della Disabilità, Rosalia De Vitis, che saluto E ovviamente la nostra Assessora Luisa Laurelli, che già so che conosce da tempo la dottoressa di Innocenzo per i trascorsi Perché è una dottoressa di Innocenzo, adesso ce lo racconterà lei Ha avuto tanti incarichi nel campo sanitario, nella regione sia Molise che Lazio È stata anche direttrice dell'Aso di Rieti, insomma, e quindi è una persona che è molto conosciuta in ambito nel Lazio Molto conosciuta in generale, conosce molto bene l'ambiente Molto conosciuta nel nono, allora As Roma C Ah, ecco, parte da là tutto Perché Roma C era quella che attualmente è Roma 2, immagino Sì, è una parte, sì Sì, sì, esatto E quindi oggi vogliamo, sono soltanto due settimane, che la dottoressa Marinello è la delegata del sindaco E quindi non solo volevamo conoscerla, ma volevamo anche raccontarle Questa, insomma, è un pezzo di squadra È un pezzo di squadra che tratta, diciamo, molto spesso all'interno della nostra commissione Trattiamo temi che riguardano l'Aso Roma 2 E quindi, insomma, vogliamo dare il benvenuto e raccontarle anche un pochino le cose che stiamo facendo Però io prima di raccontare le cose che stiamo facendo E anche, sia in positivo, è anche un po' di problemi che riscontriamo oggi In alcuni campi, in alcuni settori, diciamo, specialmente quello del TSM-RE Poi ne parliamo successivamente Volevo giusto che la dottoressa ci raccontasse un attimo esattamente da quanto tempo è stato avuto questo incarico E quali sono le sue sensazioni iniziali di questi primi giorni Dottoressa, prego Grazie, buongiorno a tutti Mi ha già fatto una presentazione più che stesa Intanto saluto tutti Non riesco però a vedere se ho la telecamera Perché mi dà come un dispositivo non selezionato Vabbè Mi sentite comunque? La sentiamo bene e non la vediamo Non mi vedete Non so perché non sta funzionando la telecamera Dicevo, allora sì, sicuramente l'incarico ce l'ho da pochissimo tempo Luisa la conosco da tanti anni perché ho lavorato nella Roma 2 E soprattutto nella Roma C Per un breve periodo, devo dire Perché mi sono occupata quando c'era un direttore generale Che era la dottoressa Paccapelo Sono stata responsabile del controllo di gestione E poi del Dipartimento delle risorse umane Poi ho prevalentemente lavorato fino al 2005 Alla Roma, l'ex Roma B Oggi sempre Roma 2 Dal 2005 in poi sono andata a fare il direttore generale Prima in Piemonte Poi sono ritornata nel Lazio all'Ares 118 Ho fatto il direttore generale dell'Ares 118 Poi sono stata un anno in regione Lazio Come dirigente responsabile dell'area formazione della direzione salute Poi ho fatto il direttore regionale Sono stato direttore generale per la salute in Molise E poi per 7 anni sono stata direttore generale dell'Asla di Rieti Di nuovo nel Lazio Quindi la mia esperienza è stata prevalentemente in questi anni Diciamo un po' di direzione generale per quasi 17 anni Poi ho lavorato Ho fatto un po' la gavetta Cioè sono partita dal basso E sono riuscita attraverso i concorsi Ad andare un po' in miglioramento Da un punto di vista della catiera Ora sono in pensione Sono andata in pensione un po' di anni prima del dovuto Come scelta personale E più che altro per motivi familiari Perché sono diventata nonna E adesso con veramente molto piacere Ho raccolto la proposta di questo incarico di delegato del sindaco Perché devo dire Mi interessa molto continuare ad occuparmi della sanità E mettere a disposizione l'esperienza che ho Ma anche imparare tanto ancora da quella che è la realtà Abbastanza complessa e composita dell'integrazione sociosanitaria Ho sostituito Monica Moriconi Che inizialmente aveva fatto la richiesta di essere spostata sul primo municipio Sull'asle Roma 1 Perché per motivi logistici legata di più alla sua residenza anagrafica Poi diciamo un po' Monica gli è molto dispiaciuto lasciare la Roma 2 Ma oramai il comune aveva già deliberato con questo spostamento Per cui io sono molto contenta di occuparmi comunque di questo settore Se l'avessi fatto alla Roma 1 che alla Roma 2 Insomma penso che noi abbiamo questo ruolo un po' di trade union Tra l'asle e i municipi e il comune di Roma Ma soprattutto quello del delegato del sindaco Penso che possa essere veramente un ruolo di sentinella Nel senso un po' di persona incaricata anche a monitorare A valutare quelle che sono le attività che dovrebbero in qualche modo Integrare il lavoro dei municipi In questo caso dei municipi perché Roma è un'area metropolitana Con le attività dell'asle Ho letto tutto il materiale che mi avete mandato Abbastanza composito perché normalmente sono abituata ad andare agli incontri preparata Per cui ho visto che avete fatto un grosso lavoro di coprogettazione Anche le presenze nei tavoli sono state numerose Non solo di terzo settore in quanto tale Ma insomma è stata abbastanza composita e mi fa molto piacere Ho notato alcuni indicatori che sono assolutamente Indicano proprio perché sono indicatori Una composizione del territorio particolarmente significativa Mi colpiva molto anche l'indice di vecchiaia Che è basso Ho lavorato tanti anni in questa provincia Dove l'indice di vecchiaia era altissimo La composizione del vostro territorio comunque Induce a riflettere anche sul problema Diciamo dei servizi legati alle famiglie All'infanzia Ai minori Che mi sembra una Come dire In alcune zone siano particolarmente caratterizzanti La composizione demografica E quindi anche epidemiologica Per quello che riguarda invece tutta la parte Diciamo della disabilità C'è tanto lavoro da fare Ma ho visto che avete fatto anche molte cose E sono contenta perché ho visto che c'è stato un lavoro e c'è una partecipazione E anche evidentemente una vostra capacità e voglia di fare Che mi hanno particolarmente colpita favorevolmente Penso possa bastare Se ci sono poi domande Io sono qui e vi ascolto Adesso provo a vedere perché non mi funziona la webcam Intanto che voi parlate Vi ascolto Grazie Grazie Vedo che c'è la mano alzata di Luisa Prego Luisa Laurelli Eccomi qua Buongiorno Marinella Ben trovata La nostra una conoscenza veramente antica E ovviamente per me è antica Che so ormai sul vecchietto spinto E inutile aggiungere niente alla descrizione del sintetico percorso di studi E di carriera fatto da Marinella d'Innocenzo Quello che diciamo mi interessa sottolineare È che abbiamo una delegata del sindaco Che fino a due anni fa faceva ai massimi vertici in Regione Un lavoro specifico relativo alle questioni dei servizi della sanità Quindi parliamo con persona esperta Con cui non avremo giri di parole da fare per capirci E parliamo anche con una persona Che sicuramente sarà disponibile a seguirci Anche in progetti su cui noi vogliamo avviare Sperimentazioni o sulle quali già siamo avanti Con decisioni che rappresentano atti di coraggio Diventano atti di coraggio devo dire Perché il contesto sociale Man mano si va degradando Perché Roma certamente non è più la città solidale Che conoscevamo fino a 15 anni fa E perché il livello di povertà varia Quindi non solo quella economica ma anche quella culturale È in grandissimo aumento E perché poi stringendo La politica è sufficientemente distante Dalla realtà che noi cittadini viviamo Quindi questo distacco aumenta il disagio Attorno all'amministrazione pubblica E alla richiesta dei servizi E c'è tanta intolleranza C'è anche devo dire Un tessuto connettivo molto potente Almeno da noi Costituito dalle associazioni del terzo settore Che se erano nel tempo un po' Lasciate andare Un po' nella disattenzione di un'amministrazione Che man mano l'ha data per scontata Questa realtà Ma che oggi sono per noi Un'ossatura importante Sono dei servizi al cittadino Che non costano E sono servizi più preziosi in assoluto Perché sono quelli di front office Dove volontari Istruiti dal nostro servizio sociale Si sono costituiti in centri di ascolto Operano in alcuni centri anziani E quindi di fatto Costituiscono una rete sul territorio Che è fondamentale Poi Credo che Marinella Dovrà dare una guardata Al nostro piano di zona municipale Su cui abbiamo lavorato moltissimo E manderò sia la delibera che il piano E le manderò anche se nessuno ancora gliel'ha mandato La guida ai servizi sociosanitari Che fa parte integrante del piano E che è una piccola guida di 70 pagine Dove tu trovi Messi assieme i servizi sociali I servizi della ASL Le semplici indicazioni Che servono ai cittadini Per vivere meno peggio Per non avere una vita complicata Io ho un bisogno sociale Devo sapere Dove poterlo andare A esprimere Magari vado prima In un centro d'ascolto Lì mi devono saper dire Dove sono i servizi Gli operatori sul territorio E come funzionano questi servizi Quindi nella guida ci sta Nome e cognome dell'addetto al tale servizio Orari in cui si può chiamare Le numeri del telefono Una cosa banale Come la nostra rubrica del telefono Identica Però ringrazio Elena Megli Che è la nostra splendida direttrice Del nostro distretto Per la grandissima collaborazione Con cui abbiamo messo in piedi Questa guida Guida che in parte Per la ASL È stata superata Dall'atto aziendale Che ha fatto il nuovo commissario Che non sappiamo Se è stato Già votato E approvato Dalla regione Lazio Quindi se è esecutivo Atto aziendale Sul quale Marinella Questo lo saprai sicuramente L'avrei saputo Anche dagli altri assessori Dei municipi Della Roma 2 Noi assessori Ci siamo rifiutati Di dare un parere Perché convocati Su un atto Che ci è stato mandato A 24 ore prima E perché quando ci è stato Illustrato Molto garbatamente In modo anche abbastanza Convincente Però di fatto Ci è stato proposto Un taglio secco Di servizi In giro Per il territorio Che a noi Non è piaciuto E anche Di conseguenza Un taglio Di responsabili Di questi servizi Quindi anche per alcuni Un ritorno indietro Nella carriera Tagli Ecco Questa è la situazione Di oggi Il nostro rapporto Municipio Comune di Roma Regione Lazio È un rapporto In cui da oltre un anno Si continua A perpetrare La scelta Secondo me Scellerata Da ogni punto di vista A partire dal punto di vista Umano Che è quella Di risparmiarsi I soldi Per la Cogestione Del budget Di salute Di cui tanto Ci si riempie la bocca E non lo fa nessuno Di servizi Sociosanitari Scaricando Sui comuni Del Lazio E quindi anche Sul comune di Roma I costi Secchi Della parte Sanitaria Della gestione Economica Del servizio Sociosanitario Non so se sono riuscita Ad essere chiara Ma questa è la situazione Molto Molto Critica Parliamo di Comunicazione Aumentativa Che non viene Riconosciuta Parliamo di Decisioni Importanti Sui centri In cui noi Ospitiamo Persone Adulte Gravi Gravissimi Autistici Gravi Che vogliono Essere Chiuse Parliamo di Uno scarico Di responsabilità Continua Che non è Un rapporto Fra pari E che non è Neanche Qualcosa Che porta Niente di buono Ai cittadini Se sarà finito Punto Ha perso la comunità Mi sa che ha perso la comunità Perché è scappata all'improvviso Sì è come se avesse cliccato Qualche cosa Eccola Eccola di nuovo Eccola di nuovo È tornata Era andata anche la di Innocenzo Sì guardate Io sto cercando di entrare Con un altro computer Eccomi Adesso abbandonato Problemi di rete Va bene Perfetto Adesso ti sentiamo Luisa Sì Oh ciao Ciao Marinella Ci vediamo pure Finalmente Ci vediamo E posso riprendere? Come no Certo È morto il computer Nel frattempo Perfetto Allora Dicevo dei rapporti Con la regione Rapporti col commissario Sono rapporti recenti Lui sembra essere Una persona Assolutamente competente E molto gradevole Però francamente Dal punto di vista Dell'accoglienza Di proposte Che noi abbiamo fatto In serie di discussione Dell'atto aziendale Non ci è sembrato Che lui stesse fuori Dai binari politici Che la regione In qualche modo Ha evidentemente Diramato Ai suoi Responsabili Di ASL E Per quel che riguarda Appunto Il rapporto Con l'ASL E con la regione La criticità Più grande Che abbiamo In questo momento Poi ne parlerà Sicuramente meglio Di me La dottoressa Megli È Il non aver programmato L'ospedale Di la realizzazione Con fondi PNRR Dell'ospedale Di comunità Nonostante Noi municipio Avessimo messo a disposizione Metà della sede Di via commisso 1800 metri quadri Utili Per poter realizzare Quest'opera Il pre La precedente Gestione Della ASL Ha lasciato Andare Questa opportunità Irresponsabilmente Siamo l'unico Municipio di Roma Che non ha Programmata Questa realizzazione E il treno PNRR Il nostro Commissario Dice che È ormai Passato Io dico Che i treni Possono pure Passare Ma i servizi Restano Se c'è un impegno Da parte Della ASL Di realizzare L'ospedale Di comunità Noi abbiamo Già Proposto Una sede Alternativa A quella Di via commisso E quindi stiamo Aspettando Dal commissario Una risposta Che ci dica Sì questa sede Mi necessita Mi interessa Per farci Questo Questo e questo Altrimenti Noi ci facciamo Altri servizi Per noi Ovviamente E stiamo Aspettando Una risposta Su questo Quindi è la Seconda volta In poco meno Di tre anni Che proponiamo Locali Importanti Per realizzare Questo Dal punto di vista Della collaborazione Col distretto Noi abbiamo Una collaborazione Anche vivace Se volete Però Una collaborazione Vera Dove Non è che Quando i nostri Uffici E quelli Della ASL Lavorano assieme Si raccontano Così Le Le fesserie Entrano Nel merito Delle questioni Ognuno Si prende Il suo carico Di responsabilità E Lavora Di comune accordo Come è giusto Che sia Noi siamo I primi A Roma Credo Nel Lazio Non lo so Ad aver Attiviato Una modulistica Utile Per Gestire I fondi Che sono Destinati All'assistenza Delle singole Persone Secondo I criteri Del budget Di salute Non si è mai visto Un euro In più Per questo Progetto Soprattutto Quello che trovo Indecente E so Tre anni Che lo dico E che non si è Mosso niente Perché i due Sistemi informatici Del comune E della regione Si parlino E quindi Di fatto Noi Con sta storia Del budget Di salute Abbiamo aggravato I nostri Dipendenti Di un lavoro Sul cartaceo Che fra Un po' Decideremo Che è inutile Farlo Perché tanto Soldi Se ne vedono Che noi Prendiamo atto Che Luisa Gode di mille euro Al mese Per l'assistenza Che gli è dovuta Conosciamo il suo reddito Non cambia niente Perché magari Servirebbero altri Duecento euro Per fargli avere Qualc'altro Servizio Serve relativamente Cioè Serve Per capire Dove vanno I soldi E come vengono Spesi Però francamente Siamo Alla preistoria Parlando In modo molto Concreto Cose appese E chiudo Noi siamo Quelli che Primi in Italia Hanno aperto Due case Per il dopo di noi Con fondi PNRR A Vitinia Dove ti invitiamo A venire In visita Perché Credo Che sia stato Quello Veramente L'esempio Di una collaborazione Estremamente virtuosa Fra pubblico E privato Che grazie All'ASPA Silo Savoia Ci consente Di avere Due case Meravigliose Dove ospitiamo In modo Bello Accogliente Soddisfacente I nostri Assistiti I nostri ragazzi Altro progetto PNRR Che è in corso È quello Di via Comisso In quei locali Che avevamo Offerta La ASL In seconda battuta Abbiamo deciso Su richiesta Del comune di Roma Di aprire Due servizi Previsti Dai progetti PNRR In tutta Europa Che sono servizi Di contrasto Alla povertà Estrema E cioè L'housing First E La stazione Di posta Credo Che Siamo pronti Saranno pronti Quelli del Dipartimento Per aprire Il cantiere E Certamente Questi due Servizi Che Alla fine Ospiteranno Complessivamente Solo 22 persone Però daranno Un sollievo A persone Che invece Di morire Per strada De fame Come succede Anche a Roma Si rimettono In piedi E riprendono Un loro percorso Di vita E non le Non hanno più Bisogno di noi Quindi quella È la più grande Soddisfazione Abbiamo la casa Di Heidi Da tanti anni Che è la casa Per i senza Fissa di Mora Nata Nata Nel 2015 Quando già Facevo l'assessore Qua Per ospitare Oltre 40 persone Poi arriva il covid Si riducono Drasticamente I numeri Oggi Le persone Che ospitiamo In tutt'altra sede Sono 16 E È interessante Te lo manderò Il report Che ci ha fatto La comunità Di Sant'Egidio Che ha vinto L'appalto Per la gestione Su Questi anni Di funzionamento Che fine Hanno fatto Le persone Quanti sono morti Quanti sono Hanno trovato Lavoro Quanti sono tornati All'estero Dalle loro famiglie E via via Dicendo Che è importante Detto questo Ci abbiamo Ancora In essere Con Aspa Silo Savoia Il progetto Di aprire Altre due casse Per i dopo di noi A Spinaceto Ma se io E l'Aggiunta Non abbiamo chiarezza Ma anche la commissione Non abbiamo chiarezza Di Che tipo di gestione Ordinaria Dovranno avere Queste case Dopo il 2026 E cioè Per parlarsi chiaro Chi ci mette i soldi E se per caso Il governo nazionale Non so come mai È un tema Che non si pone nessuno Sono riusciti A far nominare In un incarico Megagalattico Il ministro Fitto Però Nessuno mai Gli ha detto Gli ha chiesto Anche i giornalisti Una domanda banale Scusi è Dopo marzo 2026 Tutto quello Che avete aperto In giro Per l'Italia Che fine fa? Chi ci mette I soldi Per la gestione? Chi c'ha il coraggio Di mettere Di lasciare Dentro una casa Fatta per il dopo Di noi Dei ragazzi Che non diventeranno Mai Abbastanza abili Autonomi Per vivere da soli Chi ci metterà I soldi Per gestire Gli operatori? Questo è Il grandissimo tema Che abbiamo In questo momento Perché È un tema Rilevante Anche dal punto di vista Politico Che io credo Che il sindaco Dovrà E l'ha fatto Sicuramente Ma bisognerà Rafforzare Diciamo Una presa Di posizione Seria Perché qua Non è che parliamo Di soldi Che per Bontà O volontà Del sindaco Possono O non possono Entrare In bilancio Qua stiamo parlando Di soldi Di una legge Dello Stato Che è la 112 Del 2016 Inapplicata Fin dall'inizio Soldi che non Si sono All'inizio Molto Corposi Soldi Che le regioni E di conseguenza Comuni Non sono riusciti A spendere Oggi Che tu le case Ce l'hai Perché le stai Man mano Realizzando In giro Sul territorio Quei soldi Là Man mano Ogni finanziaria Subiscono Dei tagli Io ti chiedo A te Ci fai Una verifica Dal 2016 A oggi Che tagli Abbiamo subito Su quei finanziamenti Per il Lazio Cortesemente In modo tale Che sappiamo Di che stiamo parlando E quindi Per tornare a Spinoceto Io L'edificio Ce l'ho là I soldi Ce l'ho già Nel cassetto Ce l'ha Il comune di Roma Io domani Se schiocco le dita Avendo fatto La delibera Di giunta Oltre un anno fa Apro il cantiere Va bene Ma io vorrei Delle garanzie Minime Minime Perché Quando ho finito Io le fa L'assessore Chi verrà Dopo di me Non debba Stacco Le mani Nei capelli Per la disperazione Di non sapere Come gestire Il quotidiano Di queste case Quindi il servizio Per le persone Io La finisco qua Perché Se no Divento Esagerata Penso che La Megli Potrà Aggiornarci Anche sui progetti PNRR Che sta gestendo Il distretto Con grandi difficoltà Grandissime Che pare Almeno a Laurentino Da qualche giorno Siamo riusciti A superare In un rapporto Pessimo Che abbiamo Con l'Ater Un rapporto Pessimo Del municipio Un rapporto Pessimo Del comune Dei distretti Dove pare Che Dopo tanti Cambiamenti Di missioni Nessuno fa Il presidente Di quest'ente Sfasciatissimo Eccetera Eccetera Oggi ci sia Qualche dirigente Che si sta Prendendo responsabilità Che consentiranno Anche a noi Di avere La casa di comunità Al terzo ponte Di Laurentino Ristrutturata Con fondi PNRR Quindi questo È un po' In estrema sintesi Il tutto Poi manderò Documenti Atti Che Penso anche D'accordo Con la Presidente De Vivo Potranno Potranno rendere Ancora più Chiara E particolare La questione Di come Siamo noi Di questo Territorio Perché come I bisogni Sociali E di salute Sono diversi Da persona A persona E non si possono Tagliare Con l'accetta Lo stesso Questo discorso Vale per i Territori Perché noi Siamo Il secondo Territorio Municipio Per territorio Più vasto Di Roma Molto più Grande Del comune Di Milano E ci abbiamo Due soli Consultori E ce ne dovremmo 29 Quindi Diciamo Che c'è Una Mancata Applicazione Delle leggi Dello Stato Da cui ne Derivano Poi Situazioni Di disagio Tu facevi Cenno Prima Agli adolescenti Ai minori Se ne chiacchiera Solo Non se ne fa Quasi niente I servizi Della ASL E del municipio Sono In affanno Perché senza Neuropsichiatri Infantili Tu non la gestisci L'ondata Dei minori Che vengono Certificati Come ragazzi Con Disabilità Di vario genere Intellettiva O fisica Non ce la fai Così come Non ce la fai In termini Economici In una situazione Nella quale Prima si diceva La colpa È del periodo Di chiusura Del covid Ora sono passati Un po' D'anni Mi sembra Diciamo Quasi pretestuosa Come Giustificazione L'ondata Di aumento Di richieste Di intervento Dello psicologo Per i bambini E il neuropsichiatra Eccetera È di un aumento Esponenziale Del trenta per cento In più Ogni anno A cui il comune Di roma Con grande fatica Finora È riuscito A far corrispondere Le risorse economiche Ma quanto potrà durare Che lo stato centrale Stanzia Quattro milioni Di euro Per l'assistenza Ai ragazzini Nelle scuole Che hanno Diverse disabilità Quattro milioni Di euro E il comune Di roma Ne stanzia Ogni anno Per gli OEPAC Nove milioni Di euro Quest'anno 90 90 Scusa 90 È soltata Vedi Generosa 90 milioni A 4 È una roba Ingestibile Improponibile E quindi Io sono terrorizzata Fra l'altro Per la nuova sessione Di bilancio Dalle nuove scelte Che si faranno E si stanno facendo In questi giorni Sulla finanziaria Perché da là Ne discenderanno Guai per tutti Tutte le categorie Secondo me Ma sicuramente Chi patisce Di più Non è Il ricastro Con lo yacht O quello Che fa il direttore De banca Né Luisa Laurelli Ma diranno Quelli che Ci hanno Poca e niente Gli verrà tolto Anche quel Poca e niente Ora Non vorrei essere Diciamo Una che Butta nero Su una situazione Su una scena Che è ancora In evoluzione Però insomma L'esperienza Mi ha insegnato Ad essere Attenta A certi fenomeni Anche A buttare Le mani avanti Per non farsi male Dopo Ecco Grazie Grazie Assessora Dopo questo quadro Complessivo Si è dimenticata Si è dimenticata Una piccola cosa Che anche i fondi Per la disabilità In generale Sono calati tantissimo A livello governativo Questo Io ho tutto Il trend Della Della Degli anni No E quindi Effettivamente Sono ridotti tantissimo Il che Ci vuole un altro Grosso problema Che è quella Delle liste di attesa Dei SAISH Che è Dell'assistenza Domiciliare Ma insomma Di tutto Quello che è il mondo Del SAISH Anche se noi Marinella Dottoressa Nel 2022 Il Comune di Roma Riuscì a individuare Un bel gruzzolo Per abbattere Il liste di attesa Che erano anni Che non si abbattevano E fece ricadere Sui territori Sui municipi Una cifra Che poi Ogni municipio Ha effettivamente Utilizzato Per ridurre Le liste di attesa Noi abbiamo ridotto Di 100 persone Più o meno Sui vari ambiti La lista di attesa Ma ancora La lista di attesa È lunga E questo per noi È un grosso problema Un problema Che magari Rappresenterà Anche Non solo Anche La Presidente Della consulta Della disabilità Questo Fa il punto Rispetto ai servizi OE IPAC Come diceva prima L'assessora Rispetto al CA La comunicazione Alternativa Aumentata Rispetto Ai fondi Dell'autismo Che ogni anno Diminuiscono Rispetto a tante altre E anche i fondi Del dopo di noi Che prima Accennava L'assessora Laurelli Volevo La volevo Insomma I temi Sono tantissimi Ovvio che Oggi è soltanto Un momento Per raccontare Come è L'AS Roma 2 E ci tenevo Anch'io A rappresentare Il fatto Che con Con il distretto 9 C'è una Grande Sinergia Especialmente Per tutte Le attività Che riguardano I progetti Di integrazione Sociosanitaria Una delle cose Che Infatti adesso Magari Spero che La dottoressa Megli Ci possa parlare Anche In dettaglio Ci possa dare Dei ragguai Sull'ospedale Di comunità E sulla casa Delle comunità A cui Noi tanto Che per noi Sono un servizio Fondamentale Per il Sul territorio Vedo che Già la mano Alzata Quindi effettivamente Darei subito La parola Prima di Inostrarci In altre In altre Tematiche Importanti Prego Direttrice Ok Allora Buongiorno A tutti Intanto Saluto La dottoressa Innocenzo Con la quale Mi ero sentita Telefonicamente E alla quale Avevo promesso Di mandare Un breve Resoponto E non ci sono Riuscita Mi dispiace Cerco Di farlo Un attimo Perlomeno Intanto A voce Allora Sicuramente Sia l'assessore Laurelli Patrizia De Vivo Già hanno detto Tantissime cose La più importante È quello Della forte Collaborazione Che si è instaurata Tra municipio E distretto Abbiamo fatto Tante cose Uno È il piano sociale Dove credo Forse per la prima Volta Servizi Del distretto I servizi Del municipio Si sono messi Ai tavoli A discutere Insieme A fare progetti Insieme Per cui È uscito Un bel Piano sociale Siamo riusciti A produrre Questa bellissima Guida Dei servizi Sicuramente Chiaramente Essendo una guida Dei servizi Ed essendo i servizi Diciamo Sempre in movimento È chiaro Che sotto Dovrà essere Riaggiornata A breve Soprattutto Perché Poi Come Diciamo Ha detto Luisa Il nuovo Atto aziendale Che per certi Versi Ha allevato Diciamo Sicuramente Tutte le UOC Che erano Sotto il distretto Ma ha allevato Anche altre UOC Importanti Come per esempio Quella del consultorio Però Diciamo La cosa positiva Del In realtà Dell'atto aziendale È quella Di aver riportato Finalmente Diciamo Sotto La Sotto il distretto Servizi Importanti Come il CAD E i disabili adulti Che invece Prima erano Sotto un dipartimento Delle fragilità E per cui Ingovernabili Da parte del direttore Del distretto E comunque Era sempre poi Il responsabile Se succedeva qualcosa Quindi Diciamo Con il nuovo atto Questo Viene superato Una cosa Diciamo Che non va bene Nell'atto Nell'atto aziendale È il fatto Che è un po' Sparita La figura Dell'integrazione Sociosanitaria Qui accanto a me C'è la dottoressa Ruggero Che rappresenta La UOS Integrazione Sociosanitaria Con la quale Collaboriamo Chiaramente Strettamente Con il municipio Per portare avanti Tutti i progetti La sua figura La sua figura È una delle figure Che verrà A sparire Diciamo Nell'atto aziendale Inizialmente Era stata messa Una figura Per tutta L'azienda Ma non è possibile Per un'azienda Come la Roma 2 Avere un'unica figura Che gestisca L'integrazione Sociosanitaria Perché Perché Siamo Ogni distretto Della Roma 2 È praticamente Una piccola Una piccola Asla E poi perché Soprattutto Il ruolo Dell'integrazione Sociosanitaria Sta in capo Al direttore Del distretto Quindi io devo avere Vicino a me Una figura Con cui collaboro Quotidianamente Non posso avere Una figura Che sta dall'altro Capo di Roma Con cui discutere E confrontarmi E portare avanti I progetti I progetti Che abbiamo portato A livello Di integrazione Sociosanitaria Molti già li ha detti Luisa Io credo È quello più importante Uno dei più importanti Sicuramente È quello di aver fatto Un protocollo Di intesa Sul budget Di salute Per il quale Noi stiamo lavorando Tantissimo Nonostante sia Come ha detto Luisa Un Un Mero esercizio Matematico Perché sostanzialmente Noi facciamo Semplicemente L'elenco Delle spese Al momento Però lo stiamo usando Tanto Stiamo facendo Tante unità Valutative Distrettuali Nelle quali Mettiamo Produciamo Budget Di salute Documento Il budget Di salute Sia per minori Che per adulti La sfida Qual è È quella Intanto di riuscire A fare Magari Il primo budget Di salute Per il primo Preso in carico Perché al momento Stiamo lavorando Su persone Che sono già in carico Ai servizi E al municipio Quindi Sui nuovi Presi in carico Sarebbe importante Riuscire a farlo Qual è Diciamo Il vulnus Di tutta Questa storia Che poi In realtà Quando noi Facciamo anche Le UMD Quindi Municipio Distretto E servizi Nonostante Poi si Prendano Delle decisioni Per il bene Del paziente Io faccio L'esempio Che purtroppo Ancora è rimasto Appeso Di un paziente SLA Giovane Muoiono i genitori Di questo Di questo ragazzo Quindi rimane Solo il fratello In UVMD Si condivide Il fatto Di fargli Scavalcare Lui era Non so se Il primo Il secondo In lista D'attesa Nel SAIS Di fargli avere Il SAIS Per poterlo Mantenere a casa E non metterlo In un istituto Nonostante Abbiamo scritto Insieme Tutto Non si riesce A fargli Ottenere Questo Questo contributo Quindi Questo sicuramente Un vulnus Che Può essere Solo Superato Nel momento In cui Riusciremo A avere Un reale Budget In comune O comunque Condiviso In cui Diciamo Attraverso Il budget Di salute Riusciamo Poi Effettivamente A fare Dei Programmi E dei progetti Di vita Calzati Sulla persona Che riusciamo Poi a portare Avanti Questo Diciamo Intanto Per l'integrazione Mi aggancio Poi alla storia Del Diciamo Dei lavori PNRR Allora Ospedale Di comunità Ospedale Di comunità Purtroppo È saltato Come ha detto Luisa Perché Diciamo Inizialmente Era La Asla Ha ritenuto Che i lavori Da fare Presso Abbiamo visto Fossero Troppi E i fondi PNR Insufficienzi A coprirli E quindi Diciamo È stato Escluso A questa Opzione Era stata Poi presentata Dall'ex Direttore Generale Dal precedente Insomma Direttore Generale L'ipotesi Di fare Qualcosa Al santo Genio Ma non Credo Che la cosa Comunque Poi sia Fattibile Perché da Quello Che poi Mi è stato Detto Insomma Il santo Genio È proprio Pieno Quindi Non c'è Non c'è Possibilità Quindi Sicuramente L'idea Di Poter fare Qualcosa È importante Relativamente All'ospedale Di comunità Perché È una Valvola Di Sfogo Per il pronto Soccorso Per i reparti Di decenza Per I caregiver Che Magari In situazioni In cui Un paziente Cronico Magari È borderline Quindi Non può Più Stare a casa Ma non è Neanche Da Da Ospedale Può finire Magari Può essere Messo In un ospedale Di comunità Che ripeto Un po' A tutti Magari Non a Marinella Innocenza Lo sa Ma A chi Appunto Agli altri Auditori Della Diciamo Della Sessione Che È un ospedale Che dovrebbe Essere A gestione Infermieristica E che Come presenza Medica Alla presenza Del medico Di medicina Generale Quindi Le persone Che vanno Sono Seguite H24 Da infermieri Competenti Che potrebbero Evitare Il ricovero O L'andata Al pronto soccorso E quindi Tenere Magari La persona Anziana 48 ore Se non di più In pronto soccorso Su una barella A non fare niente E poi A ritornare a casa E questa è una E quanto riguarda Le case Della comunità Noi Come già detto Siamo un territorio Grandissimo Come estensione E purtroppo Siamo Riusciamo ad avere Solo due case Della comunità Abbiamo rischiato Di averne solo una Che è Via Camillo Sabatini Perché Fino A Un mesetto fa L'altra casa Della comunità Individuata Che era questa Del terzo ponte Quindi via Marotta Lipparini C'era un contenzioso Con Ater Comitato di quartiere Comitato dei residenti Insomma Una serie Di problemi Per cui Non si vedeva Via di uscita Siamo riusciti Però poi Finalmente Ad avere Diciamo A trovare La quadra di tutto E quindi La casa qui Si farà Stiamo solo Aspettando Che venga Che venga Definito Il Diciamo Per far partire I lavori Deve essere Finalizzato Il contratto D'affitto Tra Ater E E Asl Che mi auguro Insomma Avvenga A breve Pare siano Le carte Siano tutte pronte Quindi insomma Dovrebbe essere Una cosa Che arriverà A breve L'altra cosa Su cui stiamo Spingendo Con Col municipio Che io Ho richiesto All'asl È Quella Di avere Una struttura Per i disabili Adulti Ad oggi I disabili Adulti Stanno qui A via Marotta Io ce li ho Al secondo piano Dove capita Spesso E poi si Magari si rompe L'ascensore Ma al di là Di quello È fondamentale Che i disabili Adulti Siano In una struttura A pian terreno Per qualsiasi cosa C'è un problema Antincendio Cioè voglio dire Qualsiasi Dovano essere A pian terreno Quindi c'era stata Proposta A via Garda Una struttura Che Andava Cioè che era Perfetta Per Diciamo per i disabili Adulti Anche perché Era Il centro di urno Il centro di urno Disabili Che adesso È stato spostato Quindi pure su quello Io sto Telefonando In continuazione Al mio patrimonio Per Avere Contezza Di poter avere Questa struttura Per poter avere Finalmente Un Un centro Disabili Adulti Come Cristo Comanda E Quindi E questa È l'altra cosa Poi c'è sicuramente L'altro L'altro problema Grosso Che abbiamo È sicuramente Il TSMRE Come è stato detto Da Luisa Perché Diciamo Manca il personale Mancano i neuropsichiatri È uscita E questo lo dico a Luisa È uscita ieri Una delibera Per cui c'è l'assunzione Di sei neuropsichiatri Almeno uno Arriverà Penso al distretto 9 Anche perché Sennò La dottoressa Manzi Che ormai Ha messo La tende All'interno Il TSMRE Ci lascia Non ha un sostituto Giusto Un sostituto Con un aiuto Quindi sono sei Per tutte le ASL Del Lazio Come funziona Sono sei Per la Roma 2 Quindi io mi auguro Siano uno Per TSMRE Perché tutti TSMRE Stanno messi Almeno questo E quindi Insomma Spero che A breve La dottoressa Manzi Abbia un sostegno E un aiuto Prima di dover Cominciare noi Ad aprire servizi Per assistere Personale medico Paramedico Stressato Che non gliela fa più Eh bravo La butto In barzelletta Scusate Sono Tutti i microfoni Non si sente nulla Evidentemente Centralmente Li hanno spenti Sì Era stato spento Il microfono Non so dove Siete arrivati Stavo dicendo Comunque Che volevo Dire Un'altra cosa Che è Importante È che Mi sembra Non mi ricordo L'anno preciso Comunque Posto covid Era uscita Una delibera regionale Che Approvava La presenza Di uno psicologo Di distretto Mai visto Pure su quello C'è una delibera regionale Non si riesce A avere questo psicologo Invece sarebbe Importantissimo Perché ci sono servizi Che Tipo nel consultorio O Il consultorio Ce l'ha Lo psicologo Per esempio Il consultorio C'ha uno psicologo Part time Però Uno psicologo Nel distretto Che venga in aiuto A servizi Che non hanno Lo psicologo E che invece Potrebbe essere D'aiuto Tipo l'assistenza Domiciliare Questa per esempio È un'altra cosa E sarebbe importante Avere Poi una cosa Che Luisa Si è dimenticata Di accennare Qui È L'altro progetto Che abbiamo Insieme Che è Quello Alle radici Del disagio Con le scuole Questo è un progetto Veramente importante Che stiamo facendo Appunto Municipio Asl E scuole Dove affronteremo Varie problematiche Che vanno Dalla disabilità Diciamo Nei minori Quindi autistici E non Dai problemi di droga Dai problemi di violenza Dai problemi Sugli stili di vita Che verranno Diciamo Affrontati In cinque sessioni Che verranno Fatte Nelle Nelle scuole Nelle scuole Del nostro Territorio E riguardo a questo Ho appena avuto Luisa ti do Questa notizia Ho appena avuto Conferma Che il 28 ottobre Sarà presente Il commissario Alla giornata Quindi Mi hanno dato Conferma Ok Quindi È questa Andata E basta Credo Mi sembra Di avere Non so se La dottoressa Ruggero Voleva aggiungere Qualcosa Che mi sono Dimenticata Non mi pare Oddio Le cose sono Buongiorno Intanto Le cose sono Tante tali Che Veramente Non Esaurirle In una prima Conversazione Mi sembra Impossibile E questo Veramente È un territorio Molto vasto È un territorio Pecuale Quello Del distretto 9 Il distretto 9 È fatto Di isole Di ricchezza Francamente Ma anche Di isole Di estrema Povertà E Noi Veramente Il fatto Di avere Solo due Case di comunità Ci penalizza Fortemente Tutto a vantaggio Dei privati Onestamente Abbiamo Zone Come Trigoria Per esempio Che sono Completamente Sfornite Di presidi Sanitari E A parte Il campus Ecco Stiamo a Io forse Avrò Una Come dire Formazione Pubblica Per cui Insomma Questa cosa È Veramente Importante Per me Comunque Ecco Le cose Poi verranno Man mano Sviluppate Man mano Che le abbiamo Adesso Io stavo In ambulatorio Mi scusate Mi stavano Chiamando Appunto Da giù Volevo Semplicemente Farvi Un piccolo Così Report Di vita Quotidiana È venuta Una ragazza 32enne Con una Dispareunia Non sono Riuscita A visitarla Una ragazza Che sembrava Anche Lievemente Minus E poi Invece Era semplicemente Una ragazza Molto chiusa Lo psicologo Adesso Io Me la sono portata Al PUA L'ho cercato Di prendere In carico Sono riuscita Però Adesso Io Mi dovrò Come dire Spendere Le mie Amicizie Personali Che poi Per grazia Di Dio Qui siamo Un Un Di femmine E quindi Collaboriamo Molto bene Però Dovrò Spendere Le mie Amicizie Personali Per chiedere Alla psicologa Del consultorio Che è già A metà Con altri Servizi Per poter Inserire Questa ragazza Cioè Ci sono Tanti Bisogni E la Scarsità Di personale Purtroppo È quella Che In questo Momento Soffriamo Di più E Volevo dire Un'altra cosa Che mi sono Dimenticata Di dire Un'altra Delle attività Che stiamo Facendo E Che Diciamo Il municipio Ci ha Aiutato A portare Avanti È quello Proprio Per quello Che stava Dicendo La dottoressa Ruggero Noi abbiamo Una parte Diciamo Del territorio Del distretto Nove Che è Completamente Sfornita Di presidi E tra l'altro È anche Una parte Quella Che va Da Trigoria A via Dei papiri Che è anche Una parte Un po' Diciamo Disagiata Allora Noi Stiamo Mettendo In campo Diciamo All'interno Di alcuni Centri Anziani Uno È quello Di Trigoria E l'altro Che non mi ricordo Mai come si chiama È quello Dopo Trigoria La zona Dopo Trigoria Cercheremo Di mettere Un giorno A settimana Un infermiere Di famiglia Che raccolga I bisogni Delle persone Anziane Che le indirizzi Che sia Un riferimento Diciamo Sanitario Che può Poi indirizzare Le persone Verso Verso I servizi Una sentinella Sì Esatto Quindi questa È un'altra Cosa Importante E Sempre con i centri Anziani Abbiamo stretto Diciamo Un rapporto Per cui Una volta Al mese Con I servizi Dell'ASL Della prevenzione Con i fisioterapisti Infermieri Di famiglia Ed alcuni Specialisti Anche Che si sono Resi disponibili Per esempio A fine ottobre Andremo Sempre a questo Centro Anziani A Falcognana Ecco Mi dimentico Sempre il nome A Falcognana Dove ripeteremo Un evento Che abbiamo Già fatto A Trigoria Dove la mattina Ci sarà tutta Una parte Dedicata Diciamo Alla prevenzione Quindi agli screening Alle vaccinazioni Alla presentazione Un po' Dei servizi E il pomeriggio Ci dedicheremo A Su richiesta Poi delle persone Fremente Nel centro Anziani A parlare Di demenza Di Alzheimer E di menopausa Queste sono le cose Ci sono state richieste I nostri Diciamo Specialisti Si sono resi disponibili E quindi Faremo questa cosa Che ripeteremo Poi anche In altri centri Anziani Quindi insomma Penso Che La collaborazione Che c'è con il municipio Sicuramente Sta portando Nonostante La grande Scarsità Di risorse A fare Veramente Tante cose Che vanno Poi incontro Alla Alla cittadinanza E mi taccio Perché mi sa Che ho parlato Anche tanto Grazie Dottoressa Ma ci ha dato Anche delle belle Notizie Questa Della casa Della comunità Del terzo ponte Che manca Soltanto La finalizzazione Dell'affitto Per me Una notizia Importantissima Perché Siamo Veramente Questa È una È un Punto Per noi Importante La commissione Noi vorremmo Fare qualche cosa Sull'ospedale Di comunità Per aiutare Nella scelta Perché Riteniamo Che sia Importante Che ci sia Sul territorio Ma Anche questa Mi recupererò Subito Questa delibera Che lei Prima ha detto Sul discorso Dello psicologo Perché Vorremmo Anche lì Dare una Grossa mano Per Per aiutare Per aiutare Perché effettivamente I problemi Dello psicologo Sono enormi Stamattina Sentivo Anche alla radio Che Mentre prima Il rapporto Era uno A sei Di persone Che avevano Bisogno Di un servizio Anche Leggero Di psicologia Adesso siamo Uno a quattro E che Insomma È peggiorato Tantissimo E secondo noi È importante Proprio Che tutti Si rendano conto Che la figura Dello psicologo Che prima Sembrava una cosa Americana Ma io dico Basta Basta pensare A tutti i pazienti A tutti i caregiver No? Di pazienti Con disabilità Di pazienti In assistenza Domiciliare Con un'altra Assistenza Cioè Sono tutte persone E noi prima Avevamo qui Uno psicologo Che in realtà Era Diciamo Si occupava Prima della Dottoressa Dottoressa Ruggero Dell'integrazione Sociosanitaria Che si era Per esempio Reso disponibile A fare Delle giornate In cui Parlava Per esempio Con i familiari Di pazienti Con la SLA Che andavano E diciamo Traevano Un qualche Conforto Comunque Era un sollievo Per queste persone Che si trovano A dover Giorno Dopo giorno A dover Affrontare da sole Situazioni Pesanti E difficili Nonostante Magari Ci sia L'aiuso Dell'assistenza Domiciliare Dei servizi Però poi Comunque C'è sempre Un peso Importante E devono Portare Grazie Io C'è la manalzata Di Rosaria De Vitis E anche Di Paola La Vaccari Che non vedo Più Però Prego Rosario Presidente L'ho abbassata L'ho abbassata Poi nel caso Se serve Intervengo dopo Va bene Prego Ecco La Presidente Per i diritti Per i diritti Della disabilità In municipio 9 Grazie Presidente E ben Arrivata La Dottoressa Di Nascenzo Che appunto Conosco Con un grande Piacere Perché noi Abbiamo proprio Bisogno Di creare Appunto Questa Collaborazione Perché i problemi Sono veramente Tanti Oggi Lei L'è stato Presentato Quello Che di positivo C'è su questo Territorio Ma è stato Buttato Sulle sue spalle Sono state Tutte le criticità E le Le complessità Che avrebbero Bisogno Di risoluzione Però Da quello Che lei Ci ha raccontato Dal suo Background Vedo Che ha le spalle Ben forti Quindi Però Insomma Ecco Le difficoltà Sono veramente Tante E Per quanto riguarda La disabilità Non aggiungo Granché Perché Sia La Dottoressa Medi Che L'assessore Laurelli Hanno Descritto Ampiamente Quelle Che sono Quella Che è la Situazione Quelle Che sono Le necessità E A cominciare Dalla Mancanza Di personale Nelle TSRME Anche Nei disabili adulti Che crea Tantissimi Problemi E noi Proprio per questo Abbiamo Rappresentato Noi come consulte Del quadrante ASL Roma 2 Abbiamo rappresentato Al direttore Generale Direttore Sanitario Appunto Tutte queste Difficoltà Abbiamo Iniziato A Incontrarci Con una Certa Regolarità Diciamo Proprio per Poter Affrontare Questi Problemi Uno Ad uno E Vedere Insomma Cosa È Possibile Perché Noi Siamo Sul Territorio Noi come Consulte Quindi Le famiglie Ci Chiamano Per qualunque Situazione Compressa Che si Presenta Con tutta La E quindi Abbiamo Bisogno Proprio Di 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 Rappresentarle In maniera Forte Insomma E il 16 Tra l'altro Ci sarà L'incontro Appunto Con la Dottoressa Cedrola E Probabilmente Ci sarà Anche Il Commissario Amato E spero Che Ci sia Anche Lei In questo Incontro Chiaramente Che È stato Programmato Da Prima Per cui Insomma Ci sarà Anche Dottoressa Nazare Rogora Quindi Verranno Rappresentati Un po' Questi Problemi Alcuni Di Questi Problemi Che sono Stati Di Si è Parlato Oggi Che Ne So Il TSRME Disabili Adulti Problemi A livello Di Protesica Problemi A livello Di Curare Con cura Per esempio Che È Un Servizio Importantissimo Del Che Però Avrebbe Bisogno Di Una Maggiore Maggiore Forza Maggiore Possibilità Di Agire Perché Insomma Il Dottor Venezia Per noi Famiglie Sabino Interviene Direttamente Venendo A casa Per Risolvere I Problemi Che Ne So Le Analisi Le Le Varie Anche L'ospedalizzazione Di Persone Con Disabilità Persone Complesse E Che Sono Spesso Difficilmente Trattabili Quindi Un Servizio Importantissimo Che Andrebbe Assolutamente Potenziato E Poi C'è Anche Un Altro Problema Poi Non Non Aggiungo Altri Perché Insomma Questi Già Bastano E Avanzano Diciamo Via Il Fatto Che Mi Viene Rappresentato Ultimamente Che Dei Ragazzi Dei Bambini Insomma A questo Punto Diciamo Che Sono In Cura Che Sono In Terapia Presso I Centri Ex Articolo 26 A Dieci Anni Vengono Dimessi Vengono Dimessi Proprio Per La Mancanza Di Appunto Di Centri E Per Il Numero Notevole Come Stavo Detto Di Persone Che Hanno Bisogno Di Essere Seguite Con Con La Motivazione Della Conclusione Del Progetto Io Più Che Conclusione Di Progetto Direi Questo Insomma Determina Un'interruzione Di Cura Invece E Quindi Credo Che Anche Questo Problema Vada Assolutamente Preso In Considerazione Perché Poi Una Questi Ragazzi Una Volta Dimessi Poi Non Hanno Invece Appunto Perciò Parlavo Di Interruzione Di Cura Non Hanno Poi La Un Seguito E Quindi Ritornano A Casa E Questo È Veramente Molto Molto Grave Soprattutto Per Persone Che Invece Sono In Seguiti Insomma Non Aggiungo Altro Io Spero Di Vederla Il 16 Perché Per Per Noi Parlo Per Noi Consulte La Consulta Del Nono Ma Anche Tutte Le Consulte Del 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 Aslo Due Saremo Lì Continueremo Insomma In Questo In Questo Rapporto Che Abbiamo Creato E Quindi E Parleremo Appunto Di Questi Problemi Cercando Di Vedere Come Poter Arrivare In Qualche Maniera A Soluzione Insomma Ecco Mi Fermo Qui E Ringrazio La Presidenta Di Commissione Per Aver Organizzato Questa Commissione Che Ritengo Sia Veramente Molto Importante E Molto Utile Grazie Io Non vedo Nessuna Mano Alzata Però Volevo Approfittare Di Questa Di Questa Reunione Per Inviare Inoltre Anche Il Piano Che Prima Ha Menzionato La Dottoressa Megli Che Il Disaggio Questo Viaggio Nel Disaggio Che Sta Organizzando Anche L'assessore Laurelli Alle radici Del Disaggio La prima Riunione Il 28 Magari L'enoltro Questo Piano Magari Se Può Partecipare Il 28 Come Già Stato Annunciato Dalla Dottoressa Megli Verrà Anche Il Direttore Sanitario Direttore Sanitario Dell'Aso Roma 2 E Quindi Insomma Un Momento Importante Di Confronto Per Poter Non so Se 16 La Rosalia De Vitis Può Inoltrare L'indirizzo E tutto Alla Dottoressa Innocenzo Per Questa Riunione Che Avrete Con L'Aso Roma 2 Vedo Che C'è La Manalzata Della Dottoressa Marinello E poi Quella Di Paola Naccari Prego Dottoressa No Pensavo Pensavo Di Magari Se Vuole Intervenire Prima Paola Vaccari Così Magari Posso Ascoltare Volevo Soltanto Rispondere Un po' Preferisco Ascoltare Magari Intervengo Dopo Sì Grazie Grazie Dottoressa La ringrazio Moltissimo Allora Volevo Intanto Ringraziare La Presidente De Vivo Per Aver Organizzato Questa Interessantissima Riunione Di Confronto Soprattutto Ma Anche Di Raffronto Tra Il Municipio Nove E Diciamo Diciamo In due Appartamenti Che si Trovano All'Eur Già Siamo In Accordo Con Il Dipartimento Delle Vari Opportunità Perché Io Sono La Presidente Anche Della Commissione Delle Vari Opportunità Per Poter Poter Gestire Una Casa Rifugio Però Abbiamo Anche Altri Appartamenti Dislocati Nel Territorio Sempre Uno All'Eur E Altri Case Che Dovrebbero Arrivare Successivamente E Anche Lì Noi Dovremmo Aprire Delle Attività Sociali Che Riguardano Sicuramente Le Famiglie Con Disagio O Famiglie Che Stanno Subendo Poi Magari L'assessora Laurelli Lo potrà Spiegare Meglio Di Me Comunque Per I Ragazzi Che Hanno Difficoltà Che Hanno Problemi Con La Famiglia Perché È una Famiglia Che Magari Ha Dei Divorzi Un po' Particolari Quindi Anche Su Quello Noi Vorremmo Avere La Possibilità Di Interagire Con Il Comune Sempre Per Un Discorso Economico E Chiaro No Perché Noi Vorremmo Aprire Tanti Servizi Ma I Servizi Se Non Sono Seguiti Poi Dalle Delle Somme Messe In Bilancio Questi Servizi Chiaramente Non Possono Asle Io volevo Chiedere Alla Dottoressa Megli La Mancata Apertura Dei Due Punti A Via Sabatini E La Casa Della Gioia Per Quanto Riguarda Il Sabato Perché Noi Sappiamo Perfettamente Che Lì Sono Dei Punti Molto Importanti Per Leva Perché Sono Dei Punti Strategici Soprattutto Per Le Persone Che Lavorano E La Mancanza Dell'apertura Del Sabato Costringe Comunque Persone Che Normalmente Magari Durante La Settimana Non Sono Presenti E Vanno Al Lavoro E Magari Il Sabato Era Un Punto Di Riferimento Per Poter Andare A Fare Le Analisi Di Dutin Noi Sappiamo Perfettamente Che La Prevenzione Una Dimenticanza Delle Persone Ma Non Per Perché Non Lo Vogliono Fare Ma Perché Non Ci Sono Neanche I Fondi Se Poi Noi Non Diamo Anche Questo Servizio Credo Che Sia Comunque Importante Da Presidiare Anche Quei Due Punti Soprattutto Il Sabato Credo Che Siano Importanti Quindi Questo Era Quello Che Io Volevo Dire Ad Entrambe Sia La Dottoressa D'Innocenzo Che Alla Dottoressa Megli E Grazie Allora Prendo subito La parola Così Rispondo A Paola Vaccari Su Questa Situazione Allora Sabatini È chiuso Proprio Nel senso Che Via Sabatini Col Fatto Che Ci Sono I Lavori Al Momento I Prelevi Lì Non Si Fanno Nelle Strutture Vicine Che Ci Sono Ora Il Problema Del Centro Della Gioia È Scaturito Da Un Problema Diciamo Organizzativo Che Spero Si Risolva A breve Comunque Diciamo Non è che In zona Non ci Sono È vero Di Ardiatina Comunque È un po' Spostata Ma A Via Marotta Si fanno I prelievi A Bitinia Si fanno I prelievi A Spinaceto No Perché Spinaceto È proprio Chiuso Comunque C'è Il Santo Eugenio Quindi Diciamo Non è che Proprio Non Non c'è Possibilità Di fare I prelievi Con L'ASL Bisogna Spostarsi Un pochettino Ora io Immagino Che Chi Si debba Diciamo Che Chi Utilizzi Via Ardiatina Il sabato Perché Lavora Se prende La macchina E viene A via Marotta Insomma Non è che È un Gran Sacrificio Gli Anziani Ci hanno Aperto Tutta La settimana Da lunedì Al venerdì Chi Non si Può Muovere C'ha Sempre La possibilità Del prelevo Domiciliare Quindi Detto questo Spero di riuscire A risolvere Questa situazione Ci stiamo Lavorando Vediamo Vediamo Un attimino Grazie Dottoressa Prego Grazie Dottoressa Un'ultima Cosa Scusate Sempre Su questo Non è una Situazione Che è Solo Nel distretto 9 Ma è Proprio In tutta La Roma 2 Questa Della chiusura Di alcuni Presidi Il sabato Per i Prelievi Ma la domanda È Si risolverà Spero di Sì Dovrebbe Perché Secondo me È risolvibile Come la mia Che parla da sola Vabbè L'unica cosa È che non Cresce il naso Allora I mezzi Per Aprire il sabato Ci sono Bisogna Diciamo Far quadrare Alcune cose Marinella Una spiegazione Che avevi chiesto Prima Paola Vaccari Un'integrazione Di un Mezzo Mezzo Minuto Sì e no Beni confiscati Alle mafiche Noi da Una diecina di giorni Siamo i proprietari Di due Anzi di tre Bellissimi appartamenti In quel dell'Euro Che peraltro È l'unico quartiere Raggiungibile Da tutto il nostro Municipio Quindi puoi capire Che attenzione Ci stiamo mettendo All'utilizzo Di questi beni Che sono destinati Due Per realizzare Un grandissimo Centro Di ricovero Per vittime Donne Vittime di violenza Con o senza minori Vista l'aria Che tira E visto quante Ne assistiamo Lasciamo sta Una goccia Nel mare Però intanto Noi sta goccia Ce la vogliamo mettere L'altro appartamento Che ci è stato consegnato È destinato Al trasferimento Del polo Per le famiglie Che è un servizio Di carattere psicologico Per genitori E figli Quindi Per assistere Criticità Interne Interne Alla famiglia Abbiamo opzionato Anche Un quarto Di una grande villa A Mostacciano Dove si potrebbe fare Un altro centro Per donne Vittime di violenza E altri servizi Che ancora magari Sul territorio Noi non abbiamo Però qua L'agenzia nazionale Ancora ci deve dare Una risposta Allora Grazie Sono Come dire Colpita Intanto Positivamente Certo che ci sono Tante cose da fare Non c'è dubbio E Se Dovessimo farci La domanda Possiamo fare meglio E di più Sicuramente sì Ora però Io vorrei Prima di tutto Riprendere Riprendere quello Che diceva Luisa Che ringrazio Perché Come al solito Lei è In grado Di avere una visione A 360 gradi Intanto Il problema Delle risorse Le risorse Per le politiche sociali Sono progressivamente In diminuzione Chi di voi Come me Ha letto Il piano strutturale Di bilancio Ha visto Che Come dire Che carta Vince Carta Perde Sul problema Delle Risorse Soprattutto per le Politiche sociali Ricordiamoci sempre Che tutto quello Che il governo Draghi Seppur con i limiti Diciamo Della progettazione Fatto insieme Con la comunità europea Sul PNRR Ricordiamoci La legge 33 Sulla non autosufficienza E che cosa Poi è successo Con il decreto Attuativo Il decreto Legislativo 29 In cui Il progetto Unitario È stato Praticamente Di nuovo Scomposto Frammentato Addirittura La copertura Per alcuni servizi Per la non autosufficienza Sono stati Finanziati Togliendoli Ai fondi Per le politiche sociali Anziché Insomma Io non voglio Entrare nel merito Poi magari Queste discussioni Su come Le risorse Per fare Per attuare le leggi Sono L'elemento Principale Per la non attuazione E quindi Il problema Delle risorse È reale Andrebbero Fatte scelte Sicuramente diverse Andrebbero potenziate Invece Per quanto riguarda La sanità Le risorse Non sono Come dire Non hanno La stessa Intensità In termini Di risorse A disposizione Per le politiche sociali Ce n'hanno Molte di più Spesso Problemi sociali Vengono sanitarizzati Perché lì Ci sono le risorse E nel sociale Non ci sono Però Anche quest'anno Non ci sarà Quello Che tutti Ci aspettavamo Per il fondo Sanitario nazionale Non so Chi di voi Ha visto E sentito Letto Non solo Il rapporto Gimbe Ma basta Guardare Tra le righe Del piano Appunto Del piano Strutturale Il bilancio Per capire Che per la sanità Ancora È tutto in fieri Considerate Che c'è una Sottostima Forte Per quanto riguarda Le regioni Molte regioni Saranno in rosso Quest'anno Proprio perché Non riescono a coprire Il fabbisogno regionale Con questo Non voglio dire Che non bisogna Come dire Fare in modo Che le risorse Vengano messe Invece a disposizione Delle regioni Poi ci sono le regioni Che decidono In base alle loro politiche Come queste risorse Distribuirle E su quali obiettivi Allora Secondo me Il problema Che avete sollevato Delle case Delle case Di comunità E degli ospedali Di comunità È un problema reale La Diciamo che La programmazione È stata rivista In corso d'opera Io facevo Il direttore generale Quando è stata fatta La prima volta La programmazione Quindi la conosco Molto bene E so Come era stata pensata C'è un problema Di fondo Che è Come dire Che è evidente A tutti quanti Non sono state Non sono state fatte Scelte di Istituzione To cure Di case Di comunità E invece È stata fatta Diciamo un po' Diversamente La scelta Sugli ospedali Di comunità Alcuni Saranno Fatti E spero Spero che Siamo rimasti Per tutto il Lazio Strutture Da costruire Ex novo Altre sono state Oggette Di ristrutturazione Di edifici Già utilizzati Alcuni Di edifici Non utilizzati Vecchi Quindi con un processo Di ristrutturazione Enorme E quindi c'è un problema Anche di tenuta Dei tempi Rispetto al PNRR Quindi Vedere se Effettivamente Si riusciranno A portare a termine Tutti i lavori Entro il 2026 Perché Spesso Sono stati fatti Progetti prelimitari Ma non sono stati Ancora portati avanti I progetti esecutivi Quindi Quello significa Che La messa Diciamo La messa a terra Come si dice adesso Di una serie Di azioni Legate Ai cantieri È difficile Però Detto questo Un po' come Aspetto generale Legato al PNRR Quello che Io non conosco Bene Perché L'ho visto Ieri È l'atto aziendale Della Roma 2 Non lo so Qual è stata La logica Con questa da fatta Perché Appunto Non Ogni direttore generale Ha un suo Pensiero strategico Su cui poi Delinea Le linee strategiche Aziendali E quindi Il modello di funzionamento Dell'azienda Che è rappresentato All'atto aziendale Sicuramente Quello che vi posso dire È che Il passaggio Vecchia giunta Nuova giunta Cioè vecchio governo Nuovo governo Ha di fatto Modificato Alcuni Obiettivi E quindi Anche Si è Si è riversato Poi sulla Definizione Degli atti aziendali Intanto Il modello È quello Di Centralizzare Il Il distretto Con una visione Forte del distretto Giustamente Perché quello È il mandato Del DM77 Con un distretto Che ricompone Un modello unitario Di gestione E quindi La figura Dei dipartimenti In qualche modo È venuto meno Perché È venuto meno Anche un po' Il modello matriciale Che alcune aziende Avevano Definito Però Le funzioni Comunque Vanno garantite E i servizi Comunque vanno garantiti E intanto Vanno garantiti Gli standard Perché in alcune aziende Non in questa In alcune aziende Sono stati addirittura Chiusi Alcune Alcuni consultori E che erano stati Aperti Durante Gli anni precedenti E sono stati In qualche modo Ricondotti Sì C'è stata Una sorta Di Accentra Come dire Una ricomposizione Verso strutture Più grandi Chiudendo quelli Più periferici Ora I consultori Per una zona Come quella E quindi Tutta l'attenzione All'area materno-infantile Sono fondamentali E per questo Che io all'inizio Dicevo Mi sono vista La composizione Demografica E quindi epidemiologica E sono un aspetto Importante Così come Ho letto E spero di essere Smentita Da questo punto di vista Anche la riduzione Dei centri vaccinali Io non ritrovo più Tutto Nell'ASL Sto parlando Non del distretto 9 Ho visto Che sono venute Meno anche Alcune Centri vaccinali Evidentemente C'è un Come dire Un progetto Di Di Accentramento Verso alcune sedi Rispetto ad altro E anche Una sorta di Ristrutturazione Interna Delle Delle sedi Di offerta Sanitaria Non lo so Lo chiederò Appena incontrerò Il direttore Il commissario Mi farò spiegare La logica Con cui hanno fatto L'atto aziendale E cercherò di capire Insieme con lui Quali Quali Prospettive Rispetto a un Modello di funzionamento Che è diverso Rispetto a prima Non essendoci più Dipartimenti E' chiaro Che se i distretti Sono stati Come ha detto Anche la dottoressa Melli Se i distretti Sono ridiventati Diciamo Il punto Di Di Programmazione Dell'offerta E di erogazione Dell'offerta Anche su alcune Specialità E' chiaro Che Quello Che è stato Tolto Dai dipartimenti Dovrebbe essere Redistribuito Sui dipartimenti Ora Sui distretti Bisogna vedere Se poi Non si lavorava Con le stesse risorse Come si è sempre fatto Quindi Io Non lo conosco Il modello Di funzionamento Che c'era prima Rispetto a quello Che c'è ora Quindi Mi Assicurerò Di conoscerlo bene E di poterlo Anche capire Perché poi Contano i fatti Conta quello Che effettivamente Viene erogato Alla popolazione Quindi L'ospedale Di comunità Io Ho notato Che ci sono Degli ossimori Non solo Organizzativi Ma anche Proprio Concettuali Fare gli ospedali Comunità Dentro gli ospedali È una cosa Che non ha Senso Ora E quindi Io sono Assolutamente Contraria Lo dico Perché L'ho detto In tempi non sospetti Quando ho fatto Il direttore generale Lo continuerò a dire No? Così come Ho sempre detto Che non ho mai Creduto Nel Diciamo Nelle Mega aziende Secondo me Le mega aziende Non semplificano Anzi Tutt'altro E ancora oggi Dobbiamo vedere Quali sono stati i risultati In termini di esiti Di salute Per la popolazione Di miglioramento E l'organizzazione Di servizi E anche Di ottimizzazione Le risorse Quali risparmi Hanno portato No? Queste mega aziende La stessa cosa Gli ospedali Gli ospedali di comunità Sono strutture territoriali E come diceva La dottoressa Sono strutture Di cure intermedie Che servono Evidentemente A ridurre Il sovraffollamento Non le per afflusso Il sovraffollamento Cioè quello Che si provoca Perché le persone Rimangono molte ore In pronto soccorso Senza una destinazione E quindi Gli ospedali di comunità Sono importanti Perché nel transitional care Che è quello Che dovrebbero Assicurare Le centrali operative Territoriali Hanno una funzione Tra virgolette Di allocazione Di pazienti Di destinazione Di pazienti Gestibili Con quel tipo Di intensità Assistenziale E bassa intensità Clinica Quindi Come dire L'ospedale di comunità Ha una funzione Precisa Che non solo Il DM77 Ma prima ancora Veniva individuata Addirittura Dal DM70 Nel 2015 La funzione Dell'ospedale di comunità Quindi Attenzione Perché l'ospedale di comunità Ha una funzione Precisa Ed è Come dire Importante Per alcuni territori Perché il problema Dell'analisi E della stratificazione Del rischio Per quanto riguarda Delle patologie Serve proprio Per capire Come si possono Collegare La scelta In alcuni territori Di queste strutture Con la composizione Della Popolazione Quindi Quel ragionamento Che faceva la dottoressa Melli Io lo condivido molto E devo dire Che da questo punto di vista Vista la composizione Il territorio Diciamo Del distretto Nove Ma anche del municipio Avrebbe bisogno Più di case Di comunità Che non Di ospedali Di comunità Quindi Secondo me Quello a cui bisogna Puntare Avere più case Di comunità Più servizi Tarati Su quella popolazione E molte risposte A quelle che sono Invece Le cronicità E le disabilità Queste Penso Da un'analisi E vi prego Con tutta l'umiltà Possibile Immaginabili Senza nessuna presunzione Dal poco tempo Che ho avuto a disposizione Per studiare Questo territorio Io penso Che questo Ed è esattamente Quello che poi Voi state facendo Quindi Non Va Esattamente Verso Quello che Si sta facendo Il problema Del budget Di salute Allora Io per esempio Parlo della mia esperienza Perché Sull'esperienza mia Posso Magari Dire Un po' Come Ho cercato Di realizzare Alcune cose Quindi Noi il budget Di salute Nella Dove Fino a un anno e mezzo Ero Abbiamo L'abbiamo Sperimentato Sperimentato Sulla salute Mentale Non Su Su altro L'abbiamo Sperimentato Sperimentato Sperattutto Per L'inserimento Lavorativo Quindi per L'inclusione Per una serie Di cose Legate a quello È stata un'esperienza Ed è tuttora Perché Stanno andando avanti Buona Però abbiamo Anche Sperimentato Per esempio La piattaforma Integrata Per la gestione Dei territori Per quanto riguarda Le Diciamo Il sociale Il sanitario Nel Diciamo Nell'intervento E nelle attività Di integrazione Sociosanitaria Con che cosa Ci siamo scontrati E con Il problema Che i nostri Sistemi informativi Aziendali E locali Noi abbiamo gli ambiti Sociali No? Quindi con più comuni Che partecipavano Soprattutto per le aree interne Le zone disagiate Noi siamo riusciti Ad avere Una piattaforma Integrata A partire Dallo SNAI Cioè Dalle aree interne Diciamo Dalle attività Legate ai progetti Delle aree interne Delle aree disagiate E poi avevamo Le aree terremotate Quindi abbiamo avuto Abbiamo preso Insieme con gli ambiti Una piattaforma Integrata Abbiamo lavorato Su una piattaforma Integrata Soprattutto Attraverso un PUA Che era itinerante Per noi Perché il problema Della vastità Del territorio Era immenso E c'era Un po' Come c'è In alcune zone vostre Un rapporto Densità Territorio No particolarmente Significativo Perché avevamo Poche persone In un territorio Vastissimo Ci siamo Il SAD Il SAD Il SIA Sono due sistemi Informativi Completamente Separati Quindi il problema Serio per poter Lavorare in un'integrazione Reale E quello Del Come dire Se vogliamo Lavorare Su un sistema Che mette insieme Non solo le risorse Ma anche e soprattutto I dati Per poter Concretamente Attuare Un'integrazione Sociosanitaria E il problema Che sono Separati Il dato Sconcertante Che per Quanto riguarda La missione 6 Componente 2 La Roma 2 Ha In progetto Tutta la parte Che riguarda Le tecnologie E quindi La transizione Digitale Dell'azienda Che prevede Una piattaforma Di interoperabilità Ma una piattaforma Di interoperabilità Tra i sistemi E i servizi Sanitari E non Con quelli sociali Cioè Il salto di qualità Ci sarebbe Potuto essere Come voi Mi insegnate Se Missione 5 Missione 6 Missione 6 Componente 1 E 2 Missione 5 Componente 2 Avessero la possibilità Di mettere insieme Le risorse E di creare Le condizioni Per un'effettiva Interoperabilità Questo Signori cari Per il momento Non si può fare Dobbiamo Prendere atto Che in questo momento Non c'è la possibilità Di creare le condizioni Perché Un budget Di salute Possa essere Corredato Non soltanto Dallo sforzo Cartaceo E dal mettere insieme Ma da Come dire Sistemi Che consentono Di fare il salto Di qualità E di Permettere la presa In carico Problema Problema Invece Della continuità Assistenziale Che veniva sollevato Dalla Dottoressa Vaccari E anche Dalla Presidente Della consulta Problema Della continuità Assistenziale È un problema Serissimo Perché attiene Alla presa in carico Ma attiene Anche agli strumenti Per la garanzia Della continuità Della continuità Assistenziale È chiaro Che se La progettazione Non è Come dire Della filiera Cioè non è Una presa in carico Che ha poi A sua volta Un percorso Con cui la persona Esce dal primo intervento Dal secondo E entra automaticamente Nel terzo Quarto Con la diversificazione Dei servizi Che la prendono in carico Lo prendono in carico È chiaro Che si ritrovano soli E che la dottoressa Ruggero Lamentava Nel senso Poi dopo Devo mettere In campo Tutte le mie risorse Personali Per poter Allora Sicuramente Quello che bisognerà Chiedere All'ASL È di mettere Le condizioni Il distretto Di poter avere La possibilità Di costruire Questi percorsi E questo si può fare Se ci sono le risorse Le risorse professionali Sono fondamentali Ora Io lo so Come è avvenuto Questa Abbiamo fatto Perché questa Acquisizione Di neuropsichiatri Infantili Nasce da lontano Di programmazione Nell'acquisizione Le risorse Per esempio Io penso Che le aziende E la regione Dovrebbe Visto che chiede Ogni tre mesi Fa bisogno Di personale E lavorano E lavorano Sugli algoritmi Per Come dire Per tutto il problema Della stima Del fa bisogno Dovrebbero Immediatamente Una volta Che un concorso Viene approvato Immediatamente Rifare Il concorso Per poter garantire Le risorse Perché il gap Il divario Tra quando Si programma E quando Si riescono Ad avere Le risorse È enorme Enorme Con una pastoglie Con le pastoglie Burocratiche Sull'autorizzazione I veti I controveti E le autorizzazioni Enormi Quindi secondo me C'è un problema Proprio di Semplificazione Le procedure Ma anche Soprattutto Di capacità Programmatoria Quindi Bisogna Ogni volta Pensare Che Acquisite Le risorse Nel frattempo Quante sono andate via E quali bisogni Sono emersi E immediatamente Richiederle È importante Perché Le risorse In sanità Fanno la qualità Perché Siamo in grado Di erogare I servizi Se c'è il personale Quindi Io penso Che una delle cose Che chiederò Al commissario Appena lo incontrerò Sarà Qual è Il piano Del fabbisogno Quali sono Le azioni E gli interventi Che l'ASL Sta mettendo in campo Per poter avere Le risorse Compresa Quella dello psicologo Che serve Al distretto 9 Perché secondo me È fondamentale Non soltanto E capire Com'è la distribuzione Del personale Relativamente Distretti In rapporto Ai bisogni Della popolazione Se effettivamente È stato fatto Un rapporto Tra fabbisogno E capacità È necessaria Capacità È anche Come dire Di risposta Ma soprattutto Possibilità Di poter portare avanti I progetti Che già ci sono Relativamente Ai progetti E poi E poi Concludo Una cosa Che noi abbiamo Sperimentato Al di là Di tutti I progetti Che adesso Mi guarderò Con Con Attenzione Alla dottoressa Alla dottoressa Melli Noi abbiamo Parlo Della provincia Quella che Mi è stata più A cuore In questi ultimi Sette anni E Allora Noi avevamo Un problema Molto più grosso Dell'area metropolitana Per le risorse Perché Nelle province Disagiate Non ci vuole venire Nessun professionista Anche perché Con gli stipendi Che diamo agli operatori Non è che Siamo così attrattivi Ora Però Che cosa ci siamo inventati Lo dico Veramente Solo per Così Per una considerazione Senza nessuna Presunzione Di avere Una Una risoluzione Noi ci siamo inventati L'equip itineranti L'equip itineranti Che ogni giorno Andavano In un luogo diverso Le abbiamo prese In parte Dagli ambulatori Che avevamo Sia gli ambulatori Ostetrici Che gli ambulatori Infermieristici Un giorno a settimana A rotazione Tra i diversi servizi Che avevamo E costituivamo L'equip Che andava Nelle zone Più disagiate Noi stiamo parlando Di Svariati chilometri Che facevano Perché Voi siete estesi Ma l'aslo Dove c'ero io Erano 4750 chilometri Quadrati Quindi Cinque volte Roma E andavano Attrezzati Per fare Tutta una serie Di Non soltanto Di presa in carico Perché avevamo Il poeta inerante Ma soprattutto Di risposta Nelle sedi Che erano Le sedi del comune La farmacia comunale Il centro anziani Alcune cose Abbiamo utilizzato Anche le chiese Abbiamo utilizzato Le stanze Che ci dava Le diverse Diciamo Comunità ecclesiastiche Che c'erano Addirittura Abbiamo utilizzato Un asilo In un paesino Dove c'erano le suore Un vecchio asilo Che non utilizzavano più Perché non c'erano più Bambini E l'abbiamo In qualche modo Attrezzato Per Una sede Temporanea Chiaramente D'accordo Col dipartimento Di prevenzione Perché Poi ci sono Tutta una serie Di problemi Come lei sa Legato all'accreditamento Delle sedi Con cui erogare Prestazioni Però Abbiamo fatto Un lavoro Di squadra Con i comuni E ci hanno aiutato Insieme col dipartimento Prevenzione A superare Alcuni Vincoli Ma anche Alcune difficoltà Oggettive Quando non ci sono Risorse Bisogna Inventarsi Il più possibile Soluzioni Esattamente Come avete fatto voi Perché Andare ai centri anziani Come mi diceva lei Se è possibile Non lo so Rifletta lei E riflettiamoci tutti Più cervelli Lavorano meglio Di uno solo Se riuscissimo A pensare A come rispondere In maniera Un po' più strutturata E magari Con idee Che possono venire Per coprire Queste zone Magari Insomma Le buone pratiche Io penso Che ci siano Da contaminare Cioè La contaminazione Le buone pratiche È una cosa importante Io l'ho sempre presa Ho sempre Come dire Pensato Che chi ha fatto Buone cose Lo potevo poi portare In azienda Ora Io penso Che voi Abbiate fatto Veramente tante cose Vi ringrazio Per l'accoglienza Anche E per l'opportunità Di poter condividere Con voi Spero di poter Essere utile In una Condizione Di scarsità Di risorse Almeno Di essere Da pungolo Ecco Non penso Di avere Una capacità Taumaturgica Tale Da risolvere I problemi Che sono atavici Però Come diceva Luisa Laurelli Un po' Le esperienze Se le mettiamo In comune Diventano una forza Quindi La forza Delle esperienze Comuni Magari Ci può servire Io posso essere Da pungolo Ma anche Come dire Da monitoraggio Di alcune situazioni Per poterle poi Speriamo Magari anche Risolvere In alcuni casi Grazie mille Buona continuazione Non se ne vada ancora Dottoressa Un attimo Un quadro Effettivamente Oggi sono uscite Tantissime cose Io credo Che Una delle cose Che dovremmo fare Anche Non solo Verbalizzare Questa riunione Ma mettere Un pochino Magari Nero su bianco Un pochino Tutti i temi Che dobbiamo fare Anche perché Effettivamente È necessaria Anche Una programmazione In questo momento Perché non è Soltanto Un elenco Di problemi Ma anche Dovremmo cercare Un elenco Di risoluzioni Di questi problemi Io Ci tengo tantissimo Se è possibile Ad avere il documento Che lei prima diceva Che lei chiederà Al direttore Sul far bisogno Sul far bisogno Proprio Di personale Rispetto a Quindi questo lavoro Di confronto Fra Com'è il territorio Dell'interno Dell'asile Roma 2 Ma anche Noi ovviamente Ci focalizziamo Sul distretto 9 Rispetto A Tutti i servizi Che sono stati Messi in campo Anche il discorso Che lei prima Faceva su quest'atto Su come È organizzata La nuova Asile Roma 2 Su cui lei Ci ha raccontato Che Si vede A una prima Analisi Un accentramento Dei servizi Che però Non deve essere Un accentramento Diciamo Delle unità Organizzative Che però Non deve Penalizzare I servizi Che Finora Sono stati Erogati Sul territorio Anche questa Questa cosa Secondo me È un tema Che Noi ci vorremmo Ritornare Con lei Nel momento In cui lei Magari ha fatto Tutte le Scusi Presidente Se la interrompo Però Mi riferivo Essenzialmente Anche All'eliminazione Del servizio Sociosanitario Io penso Che invece Vada assolutamente Richiesto Di ricostituirlo Perché È un Tredunione Importantissimo Ma soprattutto Con una riforma Dell'assistenza Territoriale Che prevede La funzione Di integrazione Come funzione Essenziale Sia Verticale Che orizzontale Cioè Sia l'integrazione Tra servizi Strutture Che l'integrazione E quindi Settori Che l'integrazione Orizzontale Tra professionisti Il servizio Che si occupa Di Attività E interventi Sociosanitari Diventa fondamentale Per l'attuazione Delle politiche Di integrazione Sociosanitaria Effettivamente C'ha ragione Perché Questo è proprio Il più importante La più Evidente Come diceva lei Io non L'ho avuto Modo di controllarla Di vederla Però ecco Mi fa piacere Questi suoi Commenti E guarderemo sicuramente Il documento Nel futuro Con questa Con quest'ottica Perché effettivamente Ci preoccupa Cioè Abbiamo una legge Dello Stato Che riguarda Che riguarda L'integrazione Sociosanitaria E che Invece Viene lentamente Disattesa O smantellata Questo è importantissimo Quindi cercheremo Di lavorare Anche su questo Io volevo Le volevo Anche dire Che Essendo Anche il mio Passato Passato Informatico Più di una volta Adesso Sollecitato Abbiamo sollecitato Io All'assessore Laurelli In una nota Che abbiamo inviato Alla comune La possibilità Di utilizzare La piattaforma Icdf Che è una piattaforma Gratuita Utilizzata Già Dalla regione Veneto Che ci ha Raccontato Che ci ha portato Qui in commissione Proprio la presidente Rosaria De Vitis Che è una piattaforma Che utilizza Che è in grado Di fare Tutti i documenti I pay Tutti i documenti Anche i budget Di salute E di metterli A disposizione Solo assolutamente Delle persone Ovviamente Con dovuti profili E privacy Quindi Partiamo Dalle strutture sanitarie Le strutture sociali Quindi municipi Comuni Fino ad arrivare Alle famiglie Che possono Accedere E possono A questi documenti Io le spedirei Alla fine di questa riunione Anche questa Questa documentazione Sulla piattaforma ICF Che è una piattaforma Che non costa E che Lascia Tutti i sistemi Tutti i sistemi Informativi Così come sono Quelli dei comuni E quelli delle regioni Isolati Isolati Però Dà la possibilità Poi Di prelevare Da Da questi Strumenti Da queste piattaforme I documenti Che possono essere Invece Possono circolare Con questa piattaforma ICDF Quindi Non so se Ovviamente Ci sta lì In marcio So che c'è una missione Importante Del PNR Che lavora Su questa piattaforma Integrata Lei ci ha detto Che è soltanto Integrata A livelli Sanitario Non è integrata A livello Sociale Con i comuni Questa potrebbe essere Una E io mi ricordo Che una delle prime volte Che ho conosciuto Elena Megli Era proprio Una riunione Alla regione In cui la stessa Dottoressa Megli Parlava Di questo Io ho le slide Ancora Dottoressa Che parlava proprio Di questo grosso problema No? Delle piattaforme Dei sistemi Che non sono integrati Quindi Effettivamente È un problema Enorme Perché se Continuiamo Con le carte Con le mail E con Di sicuro Non si va Da nessuna parte Quindi Alla fine di questa riunione Le mando anche questo Le ho mandato Già Il piano sociale Non so se le ho mandato Anche la carta dei servizi Io Veramente sono Quindi alla fine Io in questi giorni Cercherò di fare Anche un attimo Un elenco Delle cose Che ci siamo detti Ci tenevo a riprendere Un punto Che diceva Rosaria Di Vitis Che Quanto riguarda Il discorso Dei ragazzi Dei ragazzi Che a dieci anni Vengono Non vengono Le cure Non vengono Sospese Dei centri Accreditati E ci sono solo Centri accreditati Privati Che possono Dare queste cure La regione La regione Lazio Tempo fa Aveva Progettato Dei centri Polifunzionali Per l'autismo E i problemi Della psichiatria Di cui due Dovono accadere Nella città di Roma Io non so Non sono stati ancora Completati Ma questi Questa mi sembra Una strada Da percorrere Questi centri Sanitari Unici In cui poi Queste persone Possono Possono Convergere Per poter Continuare ad avere Delle cure Che sono però Del sistema sanitario Nazionale Io immagino Che potrebbe essere Quella Una 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 Soluzione Che già è in campo Ma che In realtà Non è ancora Non è ancora Attiva Non è ancora Sviluppata Ma insomma C'è da capire Anche questo Ecco Quando Questi centri Effettivamente Possono Partire E Se possono Acquisire Tutti I ragazzi E giovani Che in qualche modo Escano da Va bene Io Non so Se ci sono altre domande Abbiamo tante cose Abbiamo messo Tanti problemi Tanti problemi Quindi La fermerei qui Se non ci sono altre domande Alla dottoressa Importante Aver preso Contatti Ci sono altre domande Io non vedo Altre mani alzate E quindi Ci lasciamo così Con Con il fatto Che Non ne oltrerò Queste domande E ci aspettiamo I documenti Che lei riesce A procurarsi Dalla regione E vedo Vedo che c'è la mano Alzata Un attimo Di Marco Cerisola Prego Marco Sì Grazie Presidente Avevo una domanda Per La delegata Del sindaco Chi sarà La sua presenza E visto Come è stato Detto Da altri In seduta Che si sta avvicinando L'importante Momento Del bilancio Quindi di capire Che abbiamo Fondi sufficienti Per i servizi Derogati Dal municipio E innanzitutto Ringrazio Sia la commissione Sia Nella Giunta Capitolina Per Queste questioni Per queste criticità Che sono Estremamente Delicati E che Ovviamente Sono tanti Tanti servizi Che senza fondi Adeguati Non Municipio Non è in grado Di erogare Quindi Ecco Mi sembra Fondamentale O Appunto Avere Delle risposte Adesso Ma soprattutto Avere Ricevere Un impegno In vista Del bilancio Che Ripeto Ancora una volta È quello Il momento Della verità Insomma Della cruda verità Rispetto A I progetti Che Insomma È doveroso In cui Il municipio Si deve fare carico Grazie Grazie Ceresola Ma Guardi Se posso rispondere Presidente Io Sicuramente Ogni riunione Che farò Con i municipi La trasferirò All'assessore Funari Con cui Mi rapporto Penso però Che sugli aspetti Che riguardano Prevalentemente Le risorse I presidenti Così come Gli assessori Abbiano le sedie I modi E le condizioni Per poter discutere In maniera Appropriata Il ruolo del delegato Del sindaco È un ruolo Di raccordo E spero Spero di poterlo Svolgere Nel Nel modo Migliore Che posso Fare E sicuramente Tutte le istanze Sarà mio Impegno Trasferirle Ora Quanto poi Le istanze Che trasferirò Si tradurranno In Azioni Concrete Questo lo vedremo Insieme Perché sarà Oggetto Di un Lavoro Che dovremo fare Inevitabilmente Insieme Intanto Vi saluto Vi ringrazio Ringrazio Tutti La Presidente Le assessori I consiglieri E la dottoressa Megli Con cui Mi sentirò Poi Anche Direi a breve Dobbiamo sentirci Assolutamente Assolutamente E quindi Vi ringrazio Vi auguro Una buona giornata E un saluto Caro a Luisa Che Mi fa piacere Averla rincontrata Grazie 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 mille Approfitto Vi saluto pure io Così Anche perché Penso Sì sì No Abbiamo Dato Grazie Ok Arrivederci Arrivederci a tutti Arrivederci Perfetto Allora Una riunione Importantissima Con tanti punti Io penso Che di questa riunione Farò un elenco Poi magari Di Di problemi Emersi O di punti Che possiamo Poi Lavorare Con La delegata Del sindaco C'è ancora La presidente Rosaria De Vitis Rosaria Prego Rosaria Sono ancora Ancora No No Dicevo Insomma Credo che Non so se Il discorso del 18 ottobre Se poi Non so Magari vi sentite voi due Sarebbe molto importante D'altronde Negli altri incontri Ha preso parte La dottoressa Moriconi Insomma Probabilmente Io spero Che la direzione generale Stenda l'invito Altrimenti Se magari Mi fai avere la mail Della dottoressa Glielo mando io Perché è importantissimo E poi soprattutto Veramente Ho sentito fare L'ho sentita molto motivata Molto 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 Competente Quindi Credo che Una persona così Ci serva assolutamente Molto da vicino Insomma Quindi Senz'altro Sicuramente sì Allora Va bene Quindi magari Eh Facciamo così A questo punto Io passerei A varie eventuali Ringrazio anche La presidente Rosaria De Vitis Che è stata Anche oggi Con noi Grazie a tutti Grazie Saluto a tutti Veramente sempre Molto utili Molto interessanti Queste Queste commissioni Grazie Buona giornata Buon lavoro Allora Io sono un po' Stornata Della riunione Di oggi Però insomma Non ho varie eventuali Da proporvi Se non il fatto che Ancora non ho scritto La lettera Le lettere Proverò a farlo oggi Quelle del gioco D'azzardo E stavo pensando Ieri Con Un'associazione Di fare Che poiché abbiamo detto Che ci vediamo In una riunione plenaria I primi di novembre Io pensavo Di utilizzare Il giorno sabato 7 novembre Perché se utilizziamo Il 31 ottobre Magari Tante persone Vanno via Per il Per il weekend Delle festività Che sono All'inizio di novembre Quindi rischiamo Di avere un fallimento Come commissione Quindi vi volevo Antecipare Che stavo pensando Di allocare In quella giornata La riunione Con Per lo start up Per far partire Il gioco La lettera Del gioco D'azzardo Questa è l'unica cosa Che vi volevo dire Ah sì Vi volevo dire Che Invece La nostra La campagna Che abbiamo fatto Per La donazione Del sangue Ha avuto Un grande successo Vi ho mandato Anche il filmato Quei ringraziamenti Il filmato Quei ringraziamenti È arrivato A più di 700 Visualizzazioni Sul sito Del municipio Il filmato Che ha avuto Più visualizzazioni In assoluto Quindi Ma in generale Che racconta Il successo Che c'è stata Per Per la prevenzione Del pronto soccorso E per la donazione Del sangue Cos'altro La Croce Rossa Italiana Sta svolgendo Presso i locali Via Comiso 23 Delle Delle riunioni Di pronto soccorso Che sono andate Ieri Veramente A mio parere Utile Non si Accena Al BLS Ma non Non si utilizza Perché non sono Corsi Sono corsi Gratuiti In cui raccontano Tutta la catena Di sopravvivenza Che è un tema Che abbiamo trattato Qualche volta All'interno Della Nostra commissione Ma Affrontarlo Dal punto di vista Pratico È Completamente Diverso Ieri Sono stata A questo primo Corso C'erano Tantissime persone Veramente Una cinquantina Forse anche Di più Quindi ha avuto Un grande successo Secondo me È stata La prima edizione Quindi Insomma Magari Se Di inoltre Il Come si dice La locandina Se potete Farne un po' Di pubblicità Credo che sia Importante Assolutamente Per me Lo è stato Ieri Andare lì E acquisire Anche alcune Alcune Prime Informazioni Sul pronto Soccorso Vedo che Non ci sono Mani alzate Se c'è L'esame Della posta Caterina Penso che Non abbiamo Nulla Non ho controllato Nemmeno io Caterina Non abbiamo Nulla Perfetto Quindi se Non ci sono Altre cose Non c'è Altri temi Una mail Che è arrivata Dalla consulta Ma penso che Di questa Siete già Conoscenza Di una riunione Che Faranno All'interno Della consulta Stessa Aspettate un secondo Che ve lo dico Nello specifico Avevo visto Una mail Questa mattina Però ho visto Che eravate In indirizzo Quindi immagino Che Avviate già Vista No io Non l'ho vista Ancora Ma è dentro La posta No scusatemi No È della consulta Della cultura Quindi è per la Commissione sesta Perdonatemi No infatti Non avevo più No no È un errore mio Mi sembrava La consulta Della disabilità Ho vista Di fretta Nulla Non abbiamo Nulla Quindi Non confermo Che non abbiamo Nulla Perfetto Va bene Allora a questo punto Sono le 11 E 25 E abbandonerei La seduta Siamo chiudere Alle 11 e mezza Alle 11 e mezza Chiudiamo alle 11 e mezza Sì è la cosa migliore 11 e 30 Assolutamente Caterina Va bene Facciamo Ponto paro Grazie Arrivederci a tutti Arrivederci Ciao 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 Grazie a tutti